Va bene ma chiede concentrazione, dobbiamo vincere 80.000 dollari per partecipare al Vintage Classic. Wow, che sorpasso! Hai pochi secondi di vantaggio, concentrati! Hai realizzato il giro più veloce! Ormai la vittoria è tua! Hai ottenuto un tempo incredibile! Finora questo hai il giro più veloce! Hai realizzato il giro più veloce della gara, continua così! Ultimo giro, sei in testa, continua così! Ultimo giro, sei in testa, continua così! Per partecipare al Vintage Classic!